ecco qua non sono avevano chiesto di fare una una live però io ho tempo adesso di rifarla insomma qua sto con il mio peluche e youtube inizio col cellulare inizio col cellulare e youtube mi dice ti consiglio di fare una live in verticale e allora io va bene faccio una live in verticale comunque salve a tutte e tutti voi non so se si potrà vedere non so se si potrà vedere la chat comunque buon natale a tutte e tutti vediamo di avere ecco qua spero che voi facciate un buon natale questo devo devo zittire un po l'audio perché c'è questo cellulare vecchio che utilizzo per per la chat vediamo un po di fare pubblicità qua devo non so dove sto andando in onda se nel canale principale o in quello secondario mi sa che devo cambiare qua non l'ho fatto prima comunque mi ha raccomandato youtube di vedere di di fare live in verticale e se me lo raccomanda youtube vediamo un po dove mi trovo adesso a ecco qua perfetto adesso condivido condivido come condividere una live e condividi andiamo in telegram sto in live e mi dovranno pazientare tutti gli amici e le amiche che magari ci sono un sacco di gruppi che poi io mi spanno un po dovunque ci sono dei gruppi che hanno una modalità lenta e niente vediamo un po se riesco a raggiungere per esempio la psycho che vuole sempre partecipare delle mie live e poi insomma basta così 31 dunque poi c'era una persona che mi chiedeva su come preparare il mate ma purtroppo ecco ecco qua c'ho delle persone c'ho delle persone nga e le ricciane e lo mai dei rest friend happy christmas in auguri new life grazie mille grazie mille nga e lari channel hello how are you i'm very fine thank you thank you to everybody allora vediamo un po se quelli della family buon pomeriggio sto in live facciamo anche streaming ecco qua allora anche la family sa che sto lo sanno tutti allora anga e le ricciane dai e san dai e mi dice il tizio grazie il tizio per le tue donazioni che mi hai fatto e mi raccomando adesso arriva il natale io ho fatto un video sul presepe che abbiamo armato ma sono anni che non abbiamo più un arbero non abbiamo più le luci e purtroppo non abbiamo per farci un regalo allora mi raccomando se voi volete comprare un super grazie sotto questo video o sotto qualsiasi video mio perché un super grazie evidenzierà il vostro commento e io so di cosa voi volete che io parli perché se voi volete che io parli di un determinato argomento per esempio un video vi è piaciuto ma di 8 10 anni fa in 40 minuti non mi ricordo più quello che ho detto in quel video allora mi raccomando comprate un super grazie ci avete anche se chiese accanto ai prezzi che sono alti che ha stabilito youtube c'è di più voi schiacciate su quel di più e c'è una sticella che potete regolare la donazione da meno di 2 euro a più di 200 allora voi commentate ciò che vi è piaciuto con ciò che pensate di quel video se voi volete una continuazione un mio video fate una donazione e io parlerò dello stesso argomento siccome in 11 anni fra poco il 7 febbraio 2024 il mio canale farà 11 anni e io ho parlato di moltissime cose e allora magari vi rifaccio lo stesso argomento e poi se in questa live voi potete fare per partecipare con un super chat o un super sticker mi farete il regalo di natale allora ciao federico bargiacchi saluta igor e marcello ciao igor ciao marcello come state e mi raccomando igor grazie per le tue donazioni buon natale igor buon natale marcello buon natale federico bargiacchi buon natale me too che poi sappiamo che la psycho ciao me lo sono ricordato e poi è incredibile nel mio secondo canale stanno schizzando le visualizzazioni se voi cercate saint jean in youtube vi apparirà il mio secondo canale che erano anni che non ci caricavo nulla ma adesso ci sto caricando degli short e sono passato ad avere più di 40.000 visualizzazioni un botto e non vi dico perché perché sarà un segreto che voi andrete a vedere è un canale di solito ci mettevo le registrazioni di sprecher fino a che non le ho potute più fare perché sprecher da un piano gratuito infimo però è un canale che ancora non è monetizzato ma forse riuscirò a monetizzarlo chi lo sa il tizio o lo fai o non lo fai sto video del mate sì lo devo fare ma adesso ho approfittato che posso fare questa live cioè il mate lo posso fare a colazione una merenda epopea risorgimento ciao epopea risorgimento felice natale perché io non so se farò una live una premier o un video per natale già ho fatto armando il presepe e ciao me tu ossia psycho buon natale anche a te e poi un'altra cosa per natale non ci potremmo fare il regalo ci abbiamo soltanto il presepe perché sono statue di plastico e durano poi magari il 25 dicembre metto il bambinello gesù nel presepe perché si mette cioè non è nato prima vabbè che si mangia il panettone già da settembre però almeno c'è chi mangia il cotechino da 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 agosto capito incredibile ormai come è cambiato tutto vabbè che il natale una festa per stare in famiglia anche se uno non è religioso ma ormai il cotechino si mangia 12 mesi l'anno con le lenticchie ciao giuseppe flaco montefiore amico mio come stai mi raccomando buon natale e buona vigilia di natale nel caso non ci vediamo non facciamo una live prima oggi sei felice ti vedo carico e si sto carico mi sono molto felice ebbe d'altra parte bisogna avere l'umore giusto per fare una live poi youtube me le raccomanda ultimamente caro giuseppe flaco montefiori di fare le live in verticale ma io non so perché e si vede che il 90 per cento del mio pubblico mi segue dal cellulare e consigliano per il risparmio energetico di fare la live in verticale e di fare i video in verticale o di guardarli di guardare i video in verticale per il risparmio energetico allora che succede che se mi vedono in verticale rimane un ritaglio piccolo dal cellulare scomodo fare le live in orizzontale ma se poi mi guardano dallo smart tv mesi fa avevo battuto un record nel mio canale il 14 per cento dei miei spettatori mi hanno visto dallo smart tv il 14 ma ancora rimane meno di un 90 per cento che mi seguono dal cellulare quindi quasi tutto il mio pubblico mi segue dal cellulare quasi nessuno dal computer e dallo smart tv allora non si fanno così comunque se ti piace così no io ho iniziato dietro suggerimento di youtube che mi ha detto ti consiglio di farla in verticale e vabbè tanto sono dei video saluti non è che la prossima volta la farò in orizzontale ma almeno posso riprendere il giraffino di peluche viene comodo e non devo alzare la sticella del del tripode perché l'altra volta per caricare in orizzontale viene più la biblioteca che sta alle mie spalle vengo meno io vabbè che se vengo di più io che succede non succede nulla così magari ecco vengo mi dovrei aggiustare ecco così perché così vengo di più nel cellulare vabbè voi che guardate guardate i miei pantaloni il laccio dei miei pantaloni jeans capirai insomma che ne pensi di g mario una bravissima persona e se mi fa ancora delle donazioni ciao g mario buona vigilia di natale buon natale perché io non so se uscirò ancora in video mi raccomando condividete questa live adesso e condividetela dopo come video mi interesse moltissimo l rsi arca hola saludos desde roma mi querido amigo l rsi arca che mi saluda desde chile felice vigilia di navidad di felice navidad disculpen si no e sto sempre leggendo la chat però essa sì che para hablar avrò mucho avrò mucho il mio olvido della gente e le resi arca che ridò amico mio epopea risorgimento se cristiano chan santin chan no sono ateo sono sempre stato ateo però festeggio il natale perché è una festa per la famiglia e poi ci sono dei valori che sono a temporali cioè no non è che io sia teo nel senso che va di contro le religioni anzi il 90 per cento di quello che ho letto ha a che fare con le religioni oltre quella cattolica naturalmente perché in italia la religione comunque anche se l'italia dell'84 un paese laico il nostro le nostre origini culturali sono il cattolicesimo e il paganesimo greco romano l'ermetismo agizio però ho letto di tutti i culti religiosi perché mi interessa dal punto di vista etnologico e dell'antropologia culturale la religione in senso lato quindi mi piacciono le religioni perché trasmettono dei valori tutte le religioni buddismo scintoismo taoismo l'ermetismo rinascimentale non sono contrario alle regioni è semplicemente non credo ma non credo che chi creda creda male ognuno è libero di chiedere se gli se gli fa piacere se gli fa bene credere che creda non sono un antireligioso ci sono altri che sono antireligiosi per me no rispetto a tutti i credi e per me hanno un'importanza culturale sì sì ho praticato molti anni la meditazione buddista caro il tizio vai ancora nei gruppi del greg e ma non si può scrivere quindi non ci vado più avevo scritto qualcosa in qualche gruppo ma non so se lo ha ristretto lo ha cambiato lo ha espresso oa lo ha chiuso e o ma cacciato a me e ha aperto un altro gruppo di telegram però non posso non posso auto promuovermi e quindi che sto iscritto a vari gruppi di greg ma non ci posso scrivere non so per quale ragione non ero nel buddismo sì infatti sono andato al gruppo samantha badra a roma nella circovaliazione giannico lenz e al numero 9 che adesso è morto sono anche se cianciù già nel 2009 credo poi sono stato all'istituto la mazzon capa di pomaglia in pisa ma il mio nome saint jean l'ho presi quando visitai in buenos aires nel 92 94 il tempo in tempio buddista cinese di buenos aires comunque no il fatto è che il tizio il buddismo si presta a un'interpretazione laica perché con tutte le discipline e intrisse di buddismo a vedo che posso spegnere questo cellulare perché in pratica posso leggere la chat c'è stata questa evoluzione dell'applicazione di youtube almeno sia anche in questo cellulare perché prima non riuscivo a leggere la chat non so per quale ragione però dicevo io mi sono occupato del buddismo soprattutto attraverso le discipline buddiste perché il buddismo fa più enfasi nell'aldi qua che non nell'aldilà per esempio il karate la meditazione d'altra parte io fin da piccolo in un certo senso meditavo perché nella mia casa di cinque semipiani andava un po di qua un po di là mi sedevo e così ho scoperto la meditazione stando seduto contemplando l'orizzonte contemplando gli elementi della casa vedendo la simmetria dei modelle mattonelle nel pavimento poi scoprì da grande che cos'era la meditazione nessuno dei miei genitori nessuno dei miei due genitori solo due come ne continuo avere per fortuna come tutti noi nessuno dei miei due genitori mi ha voluto forzare a credere o a non credere sono stato libero e forse bello anche se non usavo non usavo quello sciampo di credere qualsiasi cosa o di non credere comunque c'erano sempre dei libri in casa di altre civiltà per esempio sulla via di mondi sconosciuti civiltà non occidentali il mediterraneo mi è sempre sembrato culturalmente molto stretto molto familiare poi studiavo a scuola le civiltà del mediterraneo la storia del mediterraneo dei politeismi del paganesimo dei monoteismi quindi già da piccolo poi fece un viaggio agli otto anni nell'antico cioè nell'egito ma per me è stato un viaggio nell'antico egito perché mi sono solo occupato di archeologia e da lì viaggiare verso l'india e ho scoperto nella televisione italiana la rai soprattutto i documentari del suo buddismo sull'india un documentario della televisione niponica sulle vie della seta che narrava del pellegrinaggio del patriarca chan cinese che è andato in india ed è stato in india vent'anni per riscoprire il buddismo originario poi ha riportato in cina in un viaggio enorme ci aveva una caravana di più di un chilometro ha riportato molti testi buddisti e li ha tradotti in vent'anni e così è nato il buddismo chan però ho già c'era non mi ricordo però ecco il buddismo mi ha interessato culturalmente cioè ho praticato meditazione ma non è che possa dirmi un religioso buddista nel senso che non credo nell'aldilà quindi alla fine il buddismo una regione come le altre credono in altro credono che ci sia una non anima e non un'anima ma alla fine si riduce essere un culto religioso cioè c'è io non posso dire che ci sia chiaro però la mia ragione mi dice che non c'è ecco come stanno le cose e per quel quindi per me che mi sto guardando nel cellulare mentre parlo per me il natale è una festa per la famiglia per passarla in famiglia scambiarsi dei regali stare bene tutti insieme insomma appena questo cellulare arriva avere il 30 per cento lo dovrò spegnere e mettere sotto carica ma che c'entra beh ecco sì cari amiche ed amici se volete partecipare con una super chat una super stick un super sticker siete benvenuti a farlo ga e le ricciane il tu e l'ho ma idea rest free and io all'inizio non l'ho subito salutata però saluto di nuovo poi è difficile perché col cellulare non puoi mettere la stag cioè mettere la chiocciola e rispondere vedi almeno con questo con questo cellulare metti e devi scrivere tutto il nome per quello che ho ridotto il mio nome era sempre giallo youtuber più famoso popolare del mondo mi dicevano riducilo perché dal cellulare non qua invece non posso scrivere in questo cellulare ma posso leggere la chat qua posso scrivere ma non vedo non vedo la possibilità di pubblicare l'asta ecco qua cari amiche ed amici adesso c'è la novità che per fortuna si legge la chat si legge la chat ma non si può scrivere ma d'altra parte che scrivo a fare che voi 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 ascoltate la risposta la psycho diventa musulmana che ne pensi a bene psycho e mi fa piacere mi immagino che sia no ma a parte che che si era sposata non stessi con ai 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 sono uscito dalla live cose della diretta poi anche che ci entro insomma la psycho non si si era sposata con ivano o igor io ho sempre faccio confusione fra quei due nomi penso che sia con con chi era caro federico bargiacchi la psycho sai cioè una bravissima persona il tizio e il tizio o federico asm channel bell ciao grande buona live ciao carissimo sm channel bell scusa se non ti avevo letto ma ne è riuscito dalla live e poi questo cellulare non me l'aveva riportato perché sto leggendo quale c'è invece devo leggere la carissimo amico sm channel bell sto benissimo grazie fin da adesso ti auguro una buona vigilia di natale è un buon natale e se poi contribuisci con una super grazie o un super chat o uno sticker così mi farei un regalo di natale oppure fatti un abbonamento regalati un abbonamento vediamo un po che mi risponde igor sei ancora nei gruppi di bisanti non lo so allora igor mi sembra che non è musulmano dovrebbe essere ortodosso ma sta bene che si converta al culto che vuole se gli fa bene credere nell'islam sta bene insomma non non so se anche se anche igor è musulmano sei ancora nei gruppi di bisanti non so che sia non mi ricordo se ci sono stato nei suoi gruppi ci rimandrò non so perché a me mi invitano in dozzine di gruppi di telegram io a volte ci riesco perché non mi fanno fare autopromozione logicamente io voglio essere un imprenditore di me stesso non è vero sì 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 lo dice il girafino così magari per la legge dei numeri grandi qualcuno arriverà abbonarsi al mio canale di youtube e io voglio avere degli abbonati capito degli abbonati non perché prendono l'abbono cioè il terriccio il concime il fertilizzante ma perché si abbonano e non lo so poi tu fammi sapere quali gruppi magari invitami però ti dico che mi ritrovo in dozzine di gruppi a volte ne esco perché non mi fanno scrivere mi mettono in time out non mi riesco a promozionare non posso mandare i miei meme non posso mandare barzellette non posso rispondere agli altri allora che cavolo ci sto a fare ciò telegram che è pieno tra 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 di messaggi che non riesco a trovare quello che mi serve ma c'è un abbondanza una caterva sovraumana di gruppi nei quali io sono presente è una miseria dico io collaborerai con walter junior salami sarebbe interessante ma bisogna vedere come dove quando perché e soprattutto come perché io trovo il tempo che trovo sono sempre stato uno youtuber in regolare magari non ho tempo cioè e poi che fa fare che perché lui è specializzato nei film e io non voglio avere altri con copyright strike o che mi demonetizzino il canale perché altrimenti avevo pensato io gli davo un cioè lui mi da le mail gmail no e io gli mandavo l'invito a essere mio collaboratore cioè amministratore del canale senza privilegi speciali in questo modo lui può fare disfare quello che lui fa cioè io sono già amministratore del canale con più diritti di un'altra o di un'altra persona e io posso caricare nel suo canale i video naturalmente escono con il logo dell'altra persona l'altra persona se pubblica dei video sul mio canale li pubblica con il logo del mio canale non so se mi sono spiegato ci siamo gemellati allora io con walter junior salami che saluto adesso ciao carissimo walter junior salami e già da adesso ti auguro buona buona vigilia di natale buon natale posso collaborare gemellando i canali in questo modo lui carica sul mio canale a nome del mio canale e io caricherei sul suo canale a nome del suo però il problema è che lui fa cose di film io magari lui lo fa per non avere monetizzazione se non ci fosse la monetizzazione di mezzo non ci sarebbe nessun problema perché tu se non violi se non ti danno uno strike poi caricare tutto quello che vuoi ma con la monetizzazione se carichi troppi video dove non puoi rivendicare la monetizzazione allora o gli togli la monetizzazione al video oppure ti tolgono la monetizzazione al canale e lui dovrebbe parlare in camera e dire cose allora in questo caso io accetto di gemellare i canali lui manda i video al mio canale e io mando i video ai suoi bene c'è due persone adesso ha avuto un picco di cinque persone incredibile nelle mie live vediamo un po vediamo un po vediamo di entrare in comunque vi auguro di nuovo di avere un felice e prospero edizion 4 mamma mia felice e prospero vediamo analytics questo cellulare al contenuti 30 per cento di ricarica stavo per dire di risacca dal vivo dopo dovrò fare un'altra copertina non so e vediamo un po vediamo un po spettatori di ritorno perché oggi è ah è proprio che più o meno la fascia oraria era quella di molto pubblico però vediamo no non me lo dino me li dice qua il computer è diverso qua qua non ti dice quanti spettatori e no non me lo dino me lo dice che strano non so cioè ciò adesso ciò tre spettatori e dovrei fare 60 minuti ecco 16 persone hanno già visto stanno vedendo questa mia questa mia live 16 persone allora vediamo se sono i messaggi no messaggi principali perché questo hanno fatto messaggi principali allora giuseppe polizzi ciao giuseppe polizzi e già da adesso ti auguro felice e prospera vigilia di natale felice natale poi se puoi comprati un super chat uno sticker un super grazie o abbonati mi faresti un grande regalo di natale ciao san che smartphone ai questo è un motorola moto e 7 power e quello è un motorola age 30 fusion vediamo un po di fartelo vedere eccolo qua questo è il cellulare col quale mi sto filmando un motorola age 30 fusion comprato regalato da mia madre e nel marzo 2023 e del 22 credo allora buon natale e se poi fammi un presentino tu puoi perché da anni che non ci possiamo fare il regalo a parte questo ma è venuto sì per natale 2022 compleanno mio del 26 gennaio 2023 però adesso quest'anno insomma scarseggiano i regali bisogna farli biennali allora sei ancora nei gruppi no collaborerai ecco lo già ne ho spiegato estesamente tu puoi mandare sketch a salami in cui interpreti chaplin o keaton beh già se forse giorgio bracardi sì ma chaplin o buster keaton mi sembra che stanno fuori dalle mie possibilità beh adesso vi devo lasciare carissimi amici miei è stato un piacere stare con voi e mi raccomando fate i bravi buon natale se potete quando questo video sarà disponibile compratevi un super grazie regalatelo a qualcuno per natale e mi raccomando arrivederci e la prossima live ve lo giuro la faccio in orizzontale tanto non cambia nulla mi si vede in faccia ciao a buon natale a tutti ciao ciao